Il neocomandante dei Vigili del Fuoco, Antonio Panaro, si è presentato a un mese dall'insediamento nel comando provinciale di Via Mascia a Chieti. Nato a Legnano nel 1960 da genitori pugliesi, coniugato con due figli, ha assunto l'incarico di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti provenendo dal comando provinciale di Lecce. Entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco nel 1990, Antonio Panaro, laureato in ingegneria, ha avuto molteplici esperienze in diverse regioni d'Italia. Purtroppo il lavoro ai Vigili del Fuoco, ahimè, non manca mai. Questo è frutto degli eventi che ci succedono e quindi che sono imprevedibili nella loro natura. Il lavoro principale nostro è quello di essere pronti ad affrontare queste situazioni e quindi noi dobbiamo formarci, addestrarci e come dicevo prima, dobbiamo fare in modo che le nostre strutture siano pronte per poterci garantire il massimo dell'efficienza. Poi c'è anche il problema, il fenomeno delle frane che insomma riguarda Chieti e riguarda un po' tutta la provincia. Sì, ho fatto un giro nella provincia e mi sono reso conto che le problematiche delle frane e dei movimenti franosi, il rischio idrogeologico del territorio effettivamente è una sensibilità. È abbastanza diffuso, quindi che riguarda diverse comunità. Noi mettiamo in campo ovviamente non degli aspetti specifici ma mettiamo il nostro know-how su queste situazioni e noi riusciamo ad avere una forma mentis che consente di poter operare e di essere a supporto alle amministrazioni comunali in termini di valutazione dei rischi. Mi dicevano i miei funzionari che effettivamente il patrimonio edilizio del comune di Chieti risente di una certa vetustà, è ovvio che quindi ci sono le conseguenti attività che noi dobbiamo porre in essere e molto spesso abbiamo una rilevanza di interventi durante l'anno, ne abbiamo fatti quasi 1.500 l'anno scorso di soccorso a persone che possono andare quindi dall'ascensore alla porta bloccata in condizioni di sicurezza e quindi tutte quelle che sono le problematiche di un patrimonio edilizio che effettivamente risente di una certa vetustà. Abbiamo fatto circa 7.000 interventi nel complesso nel 2023 di cui il 22% sono incendi boschivi.